Nel 2017 Schecter ha deciso di creare una nuova linea, una linea che riuscisse ad offrire il massimo possibile, sia dal punto di vista estetico che di prestazioni, che venisse incontro alle esigenze di quanti più chitarristi possibili di ogni categoria, accetto sociale, genere, gusti musicali e che al tempo stesso riuscisse a non costare le cifre a cui normalmente ci si aspetterebbe di vedere uscire strumenti di questo tipo. Il tutto messo insieme oggi ha preso forma e si chiama Banshee Extreme. Andiamo a vedere un pochino più nel dettaglio quella che è la gamma Banshee Extreme. Innanzitutto i modelli proposti sono tre. Abbiamo due modelli a 6 corde con Floyd Rose e con ponte fisso e un modello a 7 corde con ponte fisso. Le colorazioni invece sono quattro. Charcoal Burst, Dark Cherry Burst, Ocean Blue Burst e Vintage Burst. Una chitarra senza compromessi ad un prezzo quanto più possibile accessibile a tutti. Cosa significa nei dettagli? significa una serie di legni selezionati tra cui Mogano e Acero per il body, Acero e palissandro per la tastiera. Pickup serie Diamond HSS quindi unbucker e due single coin. Laddove è disponibile un flyeroso originale o ponte fisso. Tra l'altro i pickup splittabili, circuitazione assolutamente di alto livello ed un sound che a breve andremo a scoprire. Last but not least, un'accessibilità, è il caso di dire veramente estrema fino all'ultimo tasto per quanto concerne il manico e non ultimo questo dettaglio che dà veramente un tocco di classe al tutto, un binding naturale con legno a vista. Esauriti i dettagli tecnici andiamo a sentire nel dettaglio come effettivamente suona questo strumento. Ve la farò ascoltare attraverso qualche semplice riff e attraversando quelle che sono tutte le varie posizioni e combinazioni possibili fornite da questo strumento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.